È il 1970 e la fittacamere Adele Margherita Dossena viene ritrovata uccisa con sette coltellate nel soggiorno della sua pensione vicino alla stazione centrale di Milano. Il corpo giace riverso in una pozza di sangue sul parquet accanto a due poltrone. In mezzo alla confusione ci sono due bicchierini di liquore e un vassoio di caramelle. Nella puntata precedente abbiamo parlato dell'omicidio di Elisa Casarotto ed ora spunta una connessione inaspettata. Una foto ritrovata dimostra che Elisa e Adele si conoscevano. Questo nuovo indizio potrebbe aiutare a risolvere entrambi i casi. Grazie a tutti. Siamo a Milano e sono le 19.15 di lunedì 16 febbraio 1970. Adele Margherita Dossena, 55 anni, sta pulendo le scale della pensione che gestisce in via Copernico 18 a Porta Garibaldi, a poca distanza dalla stazione centrale di Milano. Due ore più tardi viene ritrovata morta, sgozzata e colpita con furia con sette coltellate. Intorno all'ora del delitto, sul piccolo schermo della tv, Jules Brinner dirigeva il crescendo di una sinfonia nel film Ancora una volta con sentimento. Se qualcuno dell'appartamento accanto a quello della Dossena, al secondo piano dello stabile, avesse anche sentito la donna urlare, probabilmente si sarebbe limitato a chiudere meglio la porta e ad alzare il volume del televisore. Chi è la vittima? Si tratta di Adele Margherita Dossena, 55 anni, sposata a Magnoni, ma separata dal 1962 e madre di due figlie. Originaria di Sant'Angelo Lodigiano e prima di sette fratelli, Adele aveva fatto da giovane la Mondina, cioè una lavoratrice stagionale delle risaie. Prima della guerra si era sposata con Domenico Magnoni, un ex ciclista dilettante. Dal matrimonio sono nate appunto due figlie, la maggiore, Armida, sposata, che gestisce un bar in via Mc Mahon e Maria, la minore, chiamata in famiglia Mariuccia, che fa la fotomodella. Col tempo l'unione fra Adele Dossena e il marito si incrina e i coniugi decidono nel 1962 di separarsi. Il divorzio in Italia ancora non c'è e Mariuccia era andata a vivere con il padre. Desiderosa di crearsi una vita autonoma, la donna ottiene in gestione dalla sorella Carolina, proprietaria dei due alberghi, una pensione in via Copernico dove ci sono otto appartamenti con un numero di clienti varianti fra le 60 e le 70 persone, in gran parte studenti, impiegati e operai. La donna si impegna con passione nel lavoro e si occupa anche personalmente delle pulizie e dei clienti. Lo stabile di via Copernico 18 viene raccontato dalla stampa come un vasto albergo dei poveri nel quale gli arrivi e le appartenze si succedevano con ritmo frenetico. Il delitto richiama la memoria dei cronisti per contesto e per numero di individui da indagare quello avvenuto pochi mesi prima, il 4 ottobre 1969, al Carrobbio, in via Soncino 3, dove in un altro edificio popolare pieno di pensioni e inquilini fu assassinata Alba Trosti, una prostituta soprannominata La Contessa. Si tratta infatti di uno dei casi attribuiti al cosiddetto mostro di Milano. Si è cercato di inquadrare meglio la figura della vittima anche con l'aiuto della sorella. Adele Margherita Dossena era una donna tranquilla che da ogni pensionante percepiva una somma mensile variante dalle 13 alle 18 mila lire tra i 140 e i 190 euro odierni, a seconda del numero dei letti presenti nella camera. Oltre alle pulizie ogni settimana cambiava le lenzuole dei letti ed ogni due giorni lavorava di spazzettone. Qualcuno dice che fosse un po' maniaca della pulizia. Adele Margherita Dossena gestiva un piccolo albergo poco distante dalla stazione centrale delle ferrovie di Milano. Era detta sia all'accoglienza che alla registrazione degli ingressi, delle uscite e alla gestione dei pagamenti, quindi della cassa. Si occupava delle piccole pulizie sui piani e aveva, da quanto viene descritto ovviamente da fonti aperte, una cordialità nota nei confronti di coloro che frequentavano questo albergo. Chi frequentava questo albergo? Beh, due sono le figure più rappresentate. I dipendenti delle ferrovie e di tutte quelle aziende legate alle ferrovie, quindi manutenzione elettrica e non solo, e studenti universitari. Poi c'era qualche famiglia lì vicino di vecchia data che era localizzata con amicizia sempre vicino alla Dossena, abitavano in appartamenti poco distanti e c'erano relazioni amichevoli di diverso tipo, sempre di grande cordialità. Non ci sono assolutamente evidenze di attività sospette di alcun tipo, anzi cordialità, correttezza nei confronti degli ospiti e buona gestione dell'albergo. Erano l'etichetta che in quel momento aveva questa attività di accoglienza in una strada così frequentata, la via Copernico, è morta per un'aggressione violenta da arma bianca. Non abbiamo elementi per avere una giustificazione, nel senso che non abbiamo un'aggressione che possiamo collegare in modo diretto, in modo certo o con ragionevole certezza nei confronti di qualcuno che si relazionasse in qualche modo con questa donna. Il delitto è stato scoperto intorno alle 22 da una certa Angiolina Ziliani, 29 anni, che abita al pian terreno e che era in buoni rapporti di amicizia con la Dossena e dal pensionato Carmine Palmieri, 72 anni, alloggiato al quarto piano. Entrambi andavano dall'affittacamera per vedere la televisione. Sulla soglia dell'appartamento hanno trovato appeso un cartello con scritto sono di sopra, al terzo e al quarto piano. La porta era socchiusa e quindi sono entrati come già facevano sempre, poiché erano in ottimi rapporti con la Dossena. L'affittacamera non se la sarebbe presa se li avessi trovati nel suo appartamento davanti al televisore. I due hanno acceso la luce e hanno scoperto il delitto. Adele Margherita Dossena era morta, il suo corpo si trova in mezzo ad una grossa pozza di sangue e al disordine presente nel soggiorno. Angiolina urla ed accorrono diversi pensionanti. Hanno ammazzato la Dossena, grida anche il Palmieri, e subito qualcuno telefona al 777, l'antenato del 113, e nel giro dei brevi minuti arriva la polizia a bordo delle volanti. La macchina della giustizia si mette in moto e le indagini sono dirette dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor Marini, e dal dirigente della squadra mobile, dottor Caracciolo. Il medico legale, dottor Tommasini, fissa il momento del delitto tra le 21 e le 21 e 30. L'assassino ha infierito sette volte. L'arma del delitto è probabilmente un coltello serramanico. È il 16 febbraio del 1970 e Adele Margherita Dossena viene trovata morta, una morte violenta, all'interno del suo appartamento. Gestisce una piccola pensione, siamo molto vicini alla stazione centrale. Sette colpi inferti con arma bianca, una lesione mortale sicuramente alla giugolare sinistra e feratezza dimostrata sia da una doppia tripletta che dal modus operandi del tal tipo di aggressione e anche dalla posizione della vittima ritrovata a terra. Questa donna non ha alcun segno di difesa né attiva e nemmeno passiva. Siamo quindi di fronte ad una situazione che poi si ripeterà più volte con una dinamica assolutamente sovrapponibile. Tanto per avere un quadro completo di ciò che abbiamo studiato, la dinamica comprende anche una cordialità tra le parti. All'interno dell'appartamento era stato consumato del liquore, fumata una sigaretta, dopodiché viene colpita alle spalle quando si alza dalla sedia per raggiungere la cucina ed ecco che poi viene finita a terra. Non abbiamo elementi diretti sulla scena del crimine perché non è stata trovata alcuna macchia di sangue se non al di là della circoscritta area dove il cadavere era posto. Ai margini del cadavere c'era una quantità di sangue discreta e c'erano dei frammenti di un telefono che trascinato a terra dalla vittima, probabilmente con l'intenzione di difendersi anche solo col filo del telefono, ecco una volta caduto il telefono si è frantumato e questi pezzi sono rimasti impregnati di sangue vicino alla vittima, dopodiché al di là di questa area nessun'altra evidenza di sangue o di impronte lasciate dall'autore dei fatti. Si cominciano a raccogliere le testimonianze. Due coniugi hanno dichiarato che verso le 21 hanno sentito due voci, una maschile e una femminile, ma erano distanti. Poi hanno sentito la dossena gridare ma non hanno dato molto peso alla cosa perché erano davanti alla televisione, stava per finire Carosello e stava per cominciare il film ancora una volta con sentimento. Non si sono mossi perché hanno pensato che si trattasse di un banale litigio come accadevano di continuo in quella pensione. L'assassino avrebbe agito con eccezionale sangue freddo, mettendosi poi a frugare affannosamente alla ricerca di denaro oppure di qualcosa per lui compromettente e alla fine si è anche lavato le mani. Dopo essersi ripulito si è allontanato tranquillamente, confondendosi con le persone che scendevano o salivano le scale. Non ha avuto difficoltà a uscire dallo stabile perché il portone è sempre aperto giorno e notte per facilitare il via vai dei pensionanti. Tra le testimonianze raccolte ce n'è un'altra. Poco prima delle 21 un giovane che saliva le scale ha chiesto ad alcuni pensionanti dove fosse l'alloggio della dossena. Lo sconosciuto avrebbe detto che cercava l'affittacamera per farsi prestare un cavatappi. Era un giovane di media statura vestito di scuro e con i capelli scuri. I pensionati gli indicano quindi l'appartamento della dossena. Alle 19 la dossena è stata vista da alcune vicine mentre lavava le scale davanti alla sua abitazione. Alle 20 e 30 due clienti della pensione avevano socchiuso la porta del soggiorno notando che c'era molto disordine e non dando importanza al fatto che qualche oggetto fosse sotto sopra. Erano i segni del passaggio dell'assassino. Per stabilire l'ora esatta del delitto gli inquirenti chiesero a tutti se avessero visto qualcosa nell'intervallo tra le 19 e le 20 e 30 ma la risposta fu negativa. A causa del disordine lasciato dall'omicida all'interno dell'appartamento si pensa inizialmente a una rapina. Adele diceva di essere sempre a corto di quattrini ma in realtà doveva avere qualcosa da parte. C'è poi chi sostiene che i soldi non li teneva in banca ma li nascondesse in casa in tanti piccoli anfratti. La polizia perquisendo l'appartamento ha trovato nel sacchetto del pane secco in frigorifero 50 mila lire e altre 200 mila lire in un cassetto dell'armadio. Però le cose non sono come sembrano. In mezzo al disordine ci sono due bicchierini di liquore sul tavolino accanto a un vassoio contenente delle caramelle sperlari, un orologio d'oro e un anello. Chi è quella persona che offre da bere a un ladro occasionale? La rapina è stata inscenata? Per l'omicidio di Adele e Margherita Dossena si prospettarono principalmente due ipotesi. La prima è quella di un delitto commesso da un ladro intento a rubare. Sulla scena del crimine c'era molto disordine, in parte causato dalla collutazione ingaggiata con la vittima che si era difesa disperatamente e poi l'assassino affrugato dappertutto. I cassetti erano aperti, alcuni rovesciati sul pavimento ed aveva addirittura rovistato sotto i materassi. Cercava qualcosa? Cosa ha portato via? Non si sa. Sicuramente non una grossa somma di denaro, non vengono toccati oggetti di valore in bella vista e poi ci sono quei bicchierini di liquore e quel vassoio di caramelle sperlari che in genere non si offrono ai ladri. Adele e Margherita Dossena non teneva grosse somme in casa, andava regolarmente a fare depositi in banca e sapeva benissimo che tra i suoi pensionanti potevano esserci anche dei malintenzionati. La seconda ipotesi avanzata dagli inquirenti è quella di un ex cliente della pensione, forse pressato per il saldo di un conto rimasto insoluto. Una volta uccisa la donna, il debitore avrebbe frugato dappertutto per cercare far sparire la prova del movente, come un registro sul quale era annotato il debito oppure semplicemente l'appunto che l'affittacamera si era segnato per ricordarsi di quel credito. Ma non ci sono prove che questo tipo di documento sia mai esistito. Tra i clienti della Dossena non c'era soltanto povera gente e onesta. Più volte la donna aveva presentato degli esposti al commissariato contro ospiti che si erano rivelati dei poco di buono. Il registro della pensione venne comunque esaminato scrupolosamente dalla squadra mobile, dal quale ricavarono nominativi da interrogare. In quei giorni, dalle prime indagini, vengono ascoltati 25 dei 76 ospiti. Alcuni di questi non sono rientrati la notte in cui avvenne il delitto, ma non è un particolare significativo perché non era la prima volta che accadeva. La figlia maggiore di Adele, Armida, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato che sua madre, stanca di continue dispute con i clienti che non volevano pagare o si facevano rincorrere per pagare, aveva deciso di selezionare meglio gli ospiti della pensione tra quelli che avevano un lavoro fisso. In passato molti se n'erano andati senza saldare il conto e lei aveva dovuto denunciare queste circostanze al vicino commissariato Garibaldi. Chi può escludere dunque che uno di questi ex clienti possa essere l'assassino? Per avere ulteriori particolari, gli inquirenti hanno interrogato per molto tempo il marito di Adele e le due figlie. Vengono inoltre rintracciati gli indiziati della prima ora, tra cui il personaggio misterioso che sembrava avere un appuntamento con l'affittacamera. Si trattava di un innocente operaio che alla fine del mese precedente si era presentato per saldare il conto. La dossena non c'era e lui aveva lasciato un biglietto, con scritto torno alle 18 e 30 per la questione. Il foglietto era stato chissà perché conservato e aveva portato a credere che risalisse alla stessa giornata del delitto. Venne visto anche un giovane in giacca bianca salire proprio qualche minuto prima del delitto, ma si trattava di un cameriere di un vicino ristorante che veniva nel tentativo di cercare un pensionante che non aveva pagato il conto. Il cameriere avrebbe dovuto domandare informazioni proprio alla dossena per cercare di identificarlo, però non l'ha trovata e se n'è andato. C'è un'altra pista. Si tratta di un cliente della pensione di 27 anni. Alcune fonti lo riportano di origine calabresi, altre di origini pugliesi. A richiesta si mette a collaborare anche la squadra mobile di Trieste, perché in quella città risiede la moglie dell'uomo. La donna, interrogata, ha detto di non sapere dove fosse il marito, che da qualche giorno non si faceva vivo. Sul conto di questo personaggio la polizia avrebbe raccolto una circostanza che potrebbe essere significativa. Il giovane recentemente aveva confidato la sua intenzione di voler fare una rapina ad un amico gioielliere e da tal proposito aveva mostrato un coltello serramanico al testimone che lo accusa. Ma presto anche questa pista sfuma. L'uomo viene rintracciato mentre dormiva in macchina nei pressi della stazione centrale e dal suo racconto è venuta fuori una storia pietosa. Carlo, questo era il suo nome, è un diplomato che per una serie di circostanze avverse era rimasto disoccupato. Pieno comunque di buona volontà si era adattato a fare il facchino e aveva alloggiato qualche volta alla pensione di Adele Dossena. Solo di recente aveva trovato una migliore sistemazione presso un'azienda e per risparmiare il più possibile e inviare soldi alla moglie abitante a Trieste con i due figlioletti aveva deciso di dormire in stazione. Per questo era misteriosamente scomparso. Alla polizia ha raccontato di aver visto l'affitta camera una decina di giorni prima del delitto quando le aveva portato in dono due libri per la nipotina. La storia ha trovato conferma in ogni particolare e Carlo è stato subito rilasciato. Nel corso delle indagini la squadra mobile ha identificato uno degli aggressori di una modella per pittori, una certa Anna De Alli, che era stata minacciata con un coltello alla gola domenica notte, quella prima del delitto sul pianerottolo di casa. Dei ladri erano intenti a prelevare un dipinto di valore di Lucio Fontana dal valore di 1.700.000 lire. La giovane ha sorpreso dei ladri nel suo appartamento al quarto piano, che avevano già prelevato altre telle di noti autori contemporanei, tra cui anche due opere di Picasso. Uno di essi tappò la bocca alla ragazza con una mano, mentre con l'altra la minacciò con un coltello. Anna De Alli, accompagnata in questura, riconobbe in una foto segnaletica del suo aggressore. Questo era un certo Carmine, un pregiudicato sulla Trentina che venne denunciato per rapina. Si tratta di un ex corniciaio e l'abilità con cui staccava con una lama le telle dalle cornici ha contribuito ad accusarlo per l'omicidio di Adele Dossena, ma non basta, perché nulla lo lega alla vittima e alla pensione. Si scava ulteriormente nella vita privata di Adele e gli inquirenti scoprono che la donna era solita frequentare il sabato o la domenica alcune sale da ballo di periferia e dove potrebbe aver fatto altre conoscenze. Qualche anno dopo nel 1978 una negoziante, Paolina Redaelli, anche lei frequentatrice di locali da ballo, verrà assassinata con modalità simili a quelle di Adele. Il criminologo Franco Posa ipotizza che potrebbe essere stata l'ultima vittima del cosiddetto mostro di Milano. A conforto delle nostre attività esistono comunque sempre da fonti aperte racconti dove più volte viene descritta la frequentazione di alcune balere o cinema in zona Buenos Aires, per esempio, dove nel pomeriggio più di una delle donne uccise dal possibile serial killer milanese frequentavano. Frequentavano con lo scopo probabilmente di incontrarsi amichevolmente e chi aveva una doppia vita probabilmente anche di organizzare gli incontri per soddisfare la propria seconda attività. Parliamo di ipotesi, parliamo di fonti aperte e parliamo del fatto che citiamo queste notizie non perché facciamo gli investigatori ma perché vanno a confortare il fatto che c'era una relazione tra le diverse vittime, una relazione sociale amichevole e forse altro. Passano quattro anni e non si riesce a scoprire il colpevole. La figlia minore di Adele, Mariuccia Magnoni, nel frattempo ha smesso di fare la modella e si è trasferita a Roma per fare l'attrice. Ha avuto successo e ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema con il nome d'arte di Agostina Belli. La donna lavora a pellicoli importanti e viene conosciuta per film sexy degli anni 70, in particolar modo mimimi e tallurgico ferito nell'onore, sepolta viva e virilità. Nessuno degli spettatori immagina che dietro la bella Agostina ci sia stato un passato doloroso come l'omicidio di sua madre. Proprio quattro anni dopo il fatto i giornali escono con la notizia che la figlia minore di Adele Margherita Dossena, la conosciutissima Agostina Belli, cerca disperatamente il suo assassino e che vuole ingaggiare anche degli investigatori privati. Agostina racconta di non poter più vivere nell'angoscia, di non conoscere la verità e chiede insistentemente e giustamente alla polizia di indagare ancora e di non abbandonare le ricerche finché l'assassino non verrà smascherato. Agostina pur vivendo all'epoca del delitto con il padre, perché i genitori erano separati, era molto legata alla madre. Appena poteva andava a farle visite in via Copernico, le faceva le sue confidenze e a volte si sfogava. Quando ebbe la terribile notizia Maria Agostina fu colpita da un profondo shock. Soltanto due giorni dopo si riprese e poteva andare in questura per rilasciare la sua testimonianza. Sembra che non riuscì a dire quasi niente e uscendo dagli uffici della squadra mobile si rifugiò dietro le spalle del padre per evitare i flash dei fotografi. Poi un po' alla volta Agostina ricominciò a vivere, il ritorno al lavoro, altre delusioni e finalmente la prima particina in un film. Poi arriva la prima parte di una certa importanza, il ruolo di moglie di Giancarlo Giannini nel film Mimì metallurgico ferito nell'onore e una parte insepolta viva. Con la parte del guadagno del suo primo film Agostina ha fatto erigere sulla tomba della madre al cimitero una statua di bronzo che raffigura una ragazza nel gesto di spandere dei petali di rosa. Ci sono altri fatti inquietanti però che si legano alla famiglia di Adele Margherita Dossena e Agostina Belli. Il 18 marzo 1972 fu trovato morto Cristiano Giombini di 28 anni, abruzzese, che conosceva molto bene la Dossena. I periti conclusero che si era trattato di suicidio. Fu accertato però che il giovane, sconvolto per la morte della donna, aveva cominciato a fare indagini per proprio conto e sembra che avesse ottenuto dei buoni risultati, tanto che aveva confidato a un maresciallo dei carabinieri la speranza di poter arrivare presto al nome dell'assassino. Una donna con cui Cristiano Giombini aveva convissuto sostiene che il giovane non può essersi ucciso e di essere convinta che qualcuno l'ha eliminato per farlo tacere. Tuttavia sembra che nel 1971 ci sia stato un precedente tentativo di suicidio, mentre per quanto riguarda la sua morte avvenuta l'anno successivo non si trovano notizie, forse offuscate della morte dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli, avvenuta lo stesso giorno. Un altro fatto inquietante invece riguarda proprio Agostina Belli. Una sera accettò di fare un giro in macchina con due sconosciuti che aveva incontrato a casa della sorella Armida. Fu una pessima idea perché venne sequestrata in auto e minacciata con un coltello. Un'altra volta Agostina era solo in casa quando vide spegnersi la luce e sentì strani rumori. Corse urlando al balcone e invocò aiuto. Nell'appartamento la polizia non trovò nessuno. Agostina tuttavia chiese la protezione di due agenti che la scortarono per una settimana. Poi ci fu un'aggressione di cui fu vittima Carolina Dossena, sorella dell'affitta camere. Rincasando la signora fu assalita da tre malviventi che la picchiarono e la rapinarono. Prima di fuggire i banditi pronunciarono una frase da incutere terrore. Stai attenta perché potresti fare la fine di tua sorella. Il 9 ottobre 1976 piomba un'altra tragedia nella vita di Agostina Belli. Sei anni dopo l'omicidio di sua madre la zia paterna è stata morta a Milano nel suo monolocale. Eleonora Magnoni, 72 anni, si era impiccata. La donna viveva da sola in via Polesine 6 a Porta Romana in un modesto e piccolissimo locale di una casa popolare. Eleonora era la sorella del papà di Agostina ed era stato lui a scoprire il cadavere della donna non riuscendo ad avere sue notizie. Eleonora stravedeva per la sua nipote Mariuccia e la sua casa era piena di album di fotografie di lei che portava spesso con sé perfino quando andava a fare la spesa per farli vedere alla portinaia o al salumiere. Ma quel giorno, forse colpita da un'improvvisa crisi di depressione, si è alzata, si è vestita, ha preso un pezzo di corda, l'ha legato attorno alla maniglia di una finestra e si è lasciata andare. Sembra non sia stato trovato nessun biglietto di addio. Nel 2021, in seguito alle notizie riportate dal Corriere della Sera sul possibile collegamento fra otto omicidi avvenuti a Milano fra il 1963 e il 1976, tra le foto delle vittime pubblicate Agostina Belli, oltre a quella della madre, ne riconosce un'altra. Si tratta di Elisa Casarotto, un caso che abbiamo già affrontato in un'altra puntata. Grazie al lavoro del giornalista Andrea Galli del Corriere della Sera e a quello del criminologo Franco Posa, che ha collegato gli omicidi e condotto le autopsie psicologiche su coloro che hanno avuto a che fare con le vittime, si scopre che esiste una foto che ritrae Adele Margherita Dossena ed Elisa Casarotto in Gita al Lago. Agostina Belli racconta che sua madre ed Elisa erano amiche, molto amiche. Nonostante i vent'anni di differenza e le vie diametralmente opposte percorse nella vita, la Dossena con una famiglia, una pensione vicino alla stazione centrale, mentre la Casarotto, che era un'ex parrucchiera, che nel 1964 si prostituiva in un pioppeto dell'Inter milanese, dove poi verrà trovata assassinata. Le due sicuramente si frequentavano. Agostina infatti ricorda le loro gite. Ma qualcuno aveva collegato questi delitti? Abbiamo poi cercato, probabilmente usare il termine conforto è corretto, insomma in tutta quell'attività così importante dal punto di vista tecnico e scientifico. Abbiamo cercato di consolidare quelle che erano le nostre prime ipotesi oggettivamente già verificate comunque. Ed ecco che arriviamo anche ad ascoltare alcuni investigatori che operarono direttamente sulla scena del crimine. Il feedback fu immediatamente positivo, nel senso che chi lavorava su quei casi ha un ricordo molto lucido del fatto che l'autore di quegli omicidi potesse essere una mano unica. Parlare di serial killer in quegli anni era ancora un pochino prematuro probabilmente. Ma ogni volta sulla scena del crimine ritrovavano una prostituta con seconda vita, colpita d'arma bianca, con efferatezza e con un importante numero di lesioni d'arma e senza evidenza di lesioni da difesa né attiva né passiva. E quindi la loro esperienza consolidata e il loro discutere i casi aveva già portato a questa idea. E poi i fatti dell'epoca e la cultura dell'epoca rispettosissima portava comunque alla chiusura rapida dei fascicoli per eventi ben differenti e per interessi diversi sul territorio. Nel febbraio 2021 si è arrivata una scoperta inaspettata. Grazie all'analisi del DNA su dei reperti che Agostina Belli ha conservato per 50 anni, il dottor Posa ha consegnato dei frammenti contenenti delle tracce genetiche al professor Emiliano Giardina, già noto per aver identificato ignoto 1 nel caso di Yara Gambirasio. Grazie all'analisi del professor Giardina si è riusciti ad avere un profilo di un ignoto 1, anche nel caso di Adele Margherita Dossena. Grazie al recupero di materiale biologico ottenuto direttamente dalla scena del crimine, il passo successivo è stato quello, oltre alla comunicazione alle autorità, di passare il materiale al professor Giardina, Università di Tor Vergata a Roma, per ipotizzare l'estrazione di un DNA su materiale che è candidato per questo tipo di attività. Quindi nostra valutazione che ha permesso di verificare la presenza su questi pezzi recuperati di materiale biologico, dopo la conferma passaggio al professor Giardina, che evidentemente ha ancora confermato l'opportunità dell'estrazione. Comunicazione alle autorità dovuta, dopodiché l'attesa per gli eventuali sviluppi sul come procedere. È chiaro che DNA significa eventualmente trovare quello che si cita come ignoto 1, però tutto questo è un capitolo che può nascere dal DNA che abbiamo messo a disposizione. E questo è un evento che ha portato clamore, perché è il recupero da una scena del crimine, attenzione, non da una riesumazione o d'altro, ma da una scena del crimine, una conservazione silenziosa occultata per 50 anni e poi arriviamo ad avere in laboratorio materiale biologico. E questo è stato interessante anche da descrivere in comunità scientifica, in alcune sedi congressuali, soprattutto negli Stati Uniti, citando evidentemente il risultato ottenuto dall'applicazione del PASIC, autopsia psicologica. In seguito alla pubblicazione degli articoli del 1974, dove l'attrice chiedeva giustizia per sua madre, le avvelenano prima il cane, poi le rubano la macchina. Agostino non ha pace, iniziano anche una serie di telefonate anonime, con voci camuffate, come nei film, che le dicevano di smetterla e che avrebbe fatto una brutta fine, quella di sua madre. Agostino fece denuncia e le consigliarono di lasciar perdere quella storia. Le diedero addirittura il porto d'armi e lei, spaventata, smise per anni la ricerca degli assassini, di sua madre. Io personalmente ho applicato alla figlia della povera vittima Adele Margherita Dossena, ho applicato l'autopsia psicologica. Agostina Belli, figlia della vittima Dossena, è stata ascoltata da me per molte settimane con una tecnica innovativa di autopsia psicologica chiamata Pasic. Con questa attività accade che una notte Agostina Belli mi chiama al telefono dicendomi con parole sue, con un certo colore e con una certa enfasi, che si aspettava il mio arrivo dopo tanti tanti anni, si aspettava l'arrivo di una persona capace di dare giustizia o ragione a ciò che è accaduto a sua mamma. Ed ecco che mi descrive che lei la notte in cui la mamma fu uccisa arrivò sul posto in automobile con il papà. Restò in automobile, il papà entrò nell'appartamento e condivise tutte le attività necessarie con la forza pubblica presente, poi una serie di curiosi sulla strada, fino a che la situazione cominciò a tranquillizzarsi e una volta che tutti furono al di fuori dell'appartamento, Agostina scese dall'automobile e in modo autonomo entrò nell'appartamento. Si avvicinò alla povera mamma e si trovò di fronte la mamma distesa con una quantità di sangue intorno a sé importante e con dei pezzetti di plastica neri che derivavano dal fatto che era stato strappato, era caduto a terra un telefono e si era frantumato. Questi pezzetti immersi nel sangue furono raccolti da Agostina Belli con un coltellino, li prese e li racchiusa all'interno di una piccola scatolina dove aveva conservato un anellino e poi posti in una valigia a casa sua, restarono lì fino a che l'arrivo della mia attività e della nostra relazione nata grazie all'autopsia psicologica non ha portato a questa telefonata e al veloce recupero del materiale prezioso e quindi al recupero poi di materiale biologico idoneo per l'estrazione del DNA. Il clamore dal punto di vista scientifico fu dato dal risultato ottenuto con questa nuova autopsia psicologica che si chiama PASIC e la letteratura scientifica è a disposizione sulle nostre pagine web ed ecco che ad oggi abbiamo in laboratorio questo materiale e evidentemente l'estrazione potrebbe portare all'identificazione di quello che viene citato e divulgato spesso come ignoto 1. Non sappiamo quello che è stato fatto veramente per risolvere il caso ma proviamo per gioco a fare un elenco di quello che si sarebbe potuto fare. Bisognava interrogare i pensionanti del momento e quelli che avevano soggiornato nei mesi precedenti magari avrebbero potuto offrire motivi per essere sospettati. Bisognava indagare e interrogare quanta più gente possibile nei cosiddetti dancing di periferia i locali da ballo dove Adele andava spesso la domenica. Il delitto aveva fatto scalpora per la ferocia con cui l'assassino aveva inferto le coltellate. Sembrava l'opera di un sadico. Il lavoro fu difficile non si ottenne i risultati sperati anzi quasi niente tranne sgomberare certi sospettati e restringere il campo di indagine. Fu chiarito che la vittima non aveva alcun rapporto con uomini, le piaceva andare a ballare ma non si trovò nessuno che potesse fornire qualche utile notizia su quei locali da ballo. Furono interrogati in totale 200 persone tra cui tutti gli inquilini della pensione ma gli indiziati della prima ora furono tutti scagionati. Che cosa ne pensate di questo caso? Adele ed Elisa sono state entrambe vittime del cosiddetto mostro di Milano? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e se la trasmissione vi è piaciuta vi chiedo gentilmente di mettere un like e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale in modo da restare aggiornati. Per il resto vi saluto, vi ringrazio per il vostro supporto e ci vediamo presto.